Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Linda, oggi parliamo in questo video di fila invisibile e osservati speciali, me l'avete chiesto in tanti, fanno parte di un discorso che riguarda in maniera più generica la gestione della classe. Spero di fare un video pillola, cioè non troppo lungo, perché in realtà su queste due cose non c'è tanto da dire, ma possono essere un'idea per qualcuno che vuole attuare dei trucchetti per cercare di gestire al meglio certi momenti movimentati della classe. Uno, per quanto riguarda la fila invisibile, è una cosa che del tutto casualmente ho improntato anni e anni fa, quando ho iniziato a lavorare ed ero supplente, con una prima che era molto molto chiassosa, soprattutto negli spostamenti dalla classe a mensa o dalla classe in palestra, durante la fila insomma. Io mi vergognavo terribilmente perché credevo che fosse la mia incapacità di insegnante, avevo iniziato veramente da penso pochissime settimane, a non sapere gestire questi bambini durante gli spostamenti. Ahimè, dopo tantissimi anni, più di vent'anni che insegno, mi sono resa conto che gli spostamenti sono sempre un problema, penso per molti, per tutti, cioè non ho mai visto classi scendere a mensa, scendere le scale per andare a mensa come soldatini. Comunque in quel periodo io mi ricordo che proprio mentre i bambini stavano in fila un giorno, alcune colleghe che passavano accanto, si fermarono per dirmi, mamma mia ma che macello, ma questi bambini, insomma hanno fatto un appunto, cosa che mi ha fatto veramente poi tra l'altro anche molto intristire perché mi sentivo incapace appunto di gestire questi bambini. Allora il giorno dopo, prima di farli mettere in fila per andare a pranzo, ho detto bambini ma guardate che avete visto che ieri si sono fermate due maestre, una addirittura a rimproverarvi e un'altra si è sorpresa di quanto facevate chiasso, ma non sapete che invece se state tutti zitti, 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 zitti da quando uscite dalla porta della classe a quando arrivate a mensa diventate invisibili e non vi vede nessuno perché quando stiamo tutti zitti perfettamente in silenzio diventiamo invisibili. I bambini ovviamente essendo di prima hanno creduto a questa cosa, li sono messi in fila, stavano tutti fermissimi, io avevo detto che però il primo che parlava spezzava l'incantesimo e poi ci avrebbe fatto scoprire. Il caso ha voluto che scendendo le scale proprio per andare a mensa abbiamo incrociato due volte degli insegnanti che sono passati uno a testa bassa e un altro ha solo fatto un cenno col capo e basta, sono andati via e i bambini guardavano essere fatti perché pensavano appunto che non avessero detto niente perché erano invisibili. Da quel momento in poi si sono auto rinforzati con questo comportamento e con questo appunto rinforzo e nel momento in cui dovevamo scendere le scale dicevo che dire oggi facciamo filo invisibile, sì dai vediamo se ci scoprono o meno. Poi ovviamente iniziato per loro anche il voler provare se fosse vero o meno e ogni tanto qualcuno parlava e quando qualcuno parlava poi ovviamente gli altri dicevano ma come spezzato l'incantesimo adesso ci vedono e effettivamente poi quando passava qualcuno e mi salutava e io dicevo ecco avete visto, avete parlato e quindi ci hanno visto però diciamo che ha aiutato tantissimo ovviamente non si può fare sempre, si fa nelle prime però io l'ho sempre riproposto nelle mie prime e da quel momento in poi sono sempre stati silenziosissimi per provare se questa cosa fosse vera o meno. Va bene comunque detto questo che è un po' una licenza che mi prendo con i bambini piccoli vi voglio parlare degli osservati speciali perché le due cose sono concatenate. Allora se avete visto i video precedenti sulla gestione della classe sapete che io ho sempre attuato nella mia classe il programma di token economy quindi i bambini sono spesso rinforzati con dei gettoni per dei comportamenti positivi che mettono in atto. Il mio metodo è sempre premiante non punitivo. Poi ci sono dei momenti soprattutto mi è capitato in terza in cui i bambini sono secondo me particolarmente suberanti non credo solo la mia classe ma in generale perché è un'età di passaggio in cui non sono né grandi né piccoli in cui stanno cambiando e tantissime altre cose che diciamo c'è bisogno di rinforzare maggiormente determinati concetti e determinati atteggiamenti e comportamenti. Quindi non bastava il programma di token economy ma mi sono inventata questi osservati speciali che poi a ripensarci bene forse non li ho proprio inventati. Ho preso spunto da un'attività della maestra Larissa che vi invito ad andare a guardare sulla sua pagina perché sulla sua pagina Facebook perché lei aveva inventato una specie di programma simile avendo delle pietruzze colorate sulle quali scriveva il nome dei bambini diceva loro che quelli erano i camminatori cioè quando prendeva una pietruzza col nome di quel bambino osservava gli spostamenti nelle file di quei bambini per poi premiarli. Questo si diciamo collega perfettamente al discorso della fila invisibile cioè trovare uno stratagemma trovare una strategia più che stratagemma per cercare di istradare i bambini a certi comportamenti. Io ho preso spunto da quello dei camminatori della maestra Larissa e mi sono fatta la mia bustina, il mio sacchettino con quelli che io chiamo gli osservati speciali. Cosa sono gli osservati speciali? Sono dei bambini che io osservo di solito due ma a volte anche quattro durante la giornata. Loro non sanno di essere osservati ma lo so io chi osservo e come faccio a saperlo? La mattina pesco all'interno di questo sacchetto dei tondini che io ho fatto alla buona, ho costruito alla buona, alla buona, vi faccio vedere. Non sono altro che fettine, aspettate vediamo se riesco a mostrarveli così, non sono altro che fettine di tappi di sughero che ho tagliato con il tagliacarte e se lo metto tutto uno vicino all'altro si ricompone un tappo di sughero guardate. Quindi cosa succede? Ho tagliato questi tappi a fettine perché era l'unica cosa che avevo in quantità industriale che avevo conservato, sono alcuni di sughero altri di plastica e sopra col pennarello indelebile ho scritto i numeri, dei numeri da 1 a 24 perché i miei alunni quando ho iniziato a fare questa strategia erano 24 quindi ho scritto i numeri da 1 a 24 che corrispondono ai numeri dell'appello. La mattina io pesco in maniera ovviamente palese perché tutti devono sapere che sto pescando gli osservati, prendo i miei bravi due osservati, loro non sanno di chi si tratta, io li prendo, guardo i numeri e mi metto questi numeretti in tasca. Allora devo dire subito la verità, ogni tanto ho osservato dei bambini che non erano proprio quelli dei numeri però diciamo tutto fa brodo nel senso che alla fine il fine giustifica i mezzi. Cioè loro siccome sanno che qui dentro ci sono due di loro a caso si comportano tutti bene quindi cosa succede? Che oltre al programma quotidiano di token economy durante la quale distribuisco dei gettoni o dei bonus a fronte di comportamenti positivi, a fronte del rispetto delle regole, oltre a quello ci sono gli osservati. Quindi ci sono dei bambini che in estremis sono osservati da quando entro a quando esco e possono ricevere un gettone in più oppure un bonus supplementare perché durante la mia osservazione si sono comportati bene, hanno rispettato le regole. Ovviamente siccome loro non sanno chi sto osservando si comportano tutti bene. Questo può essere sostituito in qualsiasi modo con dei bigliettini con i nomi dei bambini come se fosse una pesca o un sorteggio, in qualsiasi modo. L'importante è non dire chi si sta osservando perché così tutti si comportano bene. A fine giornata c'è la grande attesa di capire a chi erano gli osservati. Io con loro ho adottato un metodo che li rispetti nella privacy, che li rispetti nella loro emotività. Cioè abbiamo messo la regola che se i due osservati si sono comportati bene io dico il nome e consegno i gettoni. Se uno dei due o entrambi non si sono comportati bene, nessuno saprà mai di chi si tratta perché io prenderò i due numeri, li metterò da parte, non consegnerò a nessuno il gettone. Loro non sanno chi si è comportato male però sanno che quel giorno non è stato guadagnato nessun gettone dagli osservati. Questo per evitare di additare o di mettere in risalto chi si è comportato male sempre nel rispetto di una filosofia che è premiante e non punitiva. Quindi questo è quello che accade con gli osservati speciali. A volte in certi giorni particolari nei pesco 4 questi bambini che poi pesco alla fine della giornata possono avere sia il gettone sia un timbrino nella scheda della raccolta punti che io faccio nella mia classe. Quindi questo è il sacchettino degli osservati speciali che mi ha aiutato tantissimo perché comunque dà una chance in più ai bambini di comportarsi bene. Niente, queste erano le mie due follie. La fila invisibile inventata sul momento in un periodo in cui avevo appena iniziato a lavorare però che devo dire ogni volta che ho la prima la ripropongo e funziona. Gli osservati speciali dà un'idea della maestra Larissa modificata secondo l'esigenza della mia classe. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete suggerimenti, commenti, richieste, dubbi scrivetemi nei commenti o del video su YouTube o nei social dove vedete postato il video o trovatemi con i contatti che trovate in infobox e ditemi la vostra. Se avete qualche strategia da suggerire la prendo e l'acquisisco molto volentieri perché non si finisce mai di imparare. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver visto questo. Ciao!